Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova palestra polivalente nei pressi dell'istituto scolastico Pantini Potente di Vasto. La palestra finanziata con fondi PNRR dal settore di vizio scolastica della provincia di Chieti per un importo totale dell'intervento pari a 3 milioni e 500 mila euro sarà costruita su 1.500 metri quadri di terreno di proprietà provinciale nell'area diacente pololiceale. I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Adriatica SRL di Vasto che sta procedendo in questi giorni alle opere di scavo per realizzare le fondazioni della struttura. La palestra ospiterà un campo regolarmentare di pallavolo e basket con tribune e spogliatoi. Oltre all'ingresso dal Pantini Potente ci sarà un ulteriore incresso indipendente dalla scuola per consentire l'eventuale utilizzo della palestra in orario extrascolastico. L'edificio sarà costituito da due blocchi, uno destinato alla palestra con copertura in legno e lamellare e uno ai servizi spogliatoi. Il blocco palestra ha una superficie di circa 800 metri quadri di cui 600 adibiti a dare a gioco e di restanti destinati alle tribune che potranno ospitare fino a 200 spettatori. La struttura, progettata secondo i criteri delle norme in materia di impianti sportivi per la disciplina agonistica del CONI, potrà essere omologata per le competizioni di pallavolo di livello nazionale e per le partite di pallacanestro di livello base. Tempi di realizzazione dell'opera, 730 giorni lavorativi. La nuova palestra sarà quindi pronta entro il 2026.